Ma io per parlare, posso togliermi la mascherina mentre parlo? Ma qua si faceva una foto, guardi qua, era solo per farsi la foto. Eh, posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? Eh no. No? Eh, se non sta un metro e mezzo, no. Che cosa ha detto? Com'è? Oh, spiacente signore, non stavamo ascoltando. La spazzatura? La tavoletta del water alzata? Cosa? Cosa? Eh, allora, mi fate vedere le foto di Piazza del Popolo che ci sono state sabato? Mi fa vedere la foto di Piazza del Popolo Santo? Sì, se trovate anche o Zingaretti o Conte che si trovano la mascherina... Portare l'allarme a Defcon 2. Avete sentito signori? Defcon 2. Ma secondo lei, l'abbassarsi la mascherina mentre si parla con una signora è lo stesso problema che... Avviare stupidera. Chiave in posizione di sicurezza. Pronti a lanciare al suo ordine, signore. Fuoco! Non mantenere, mi limito nel mio linguaggio, le promesse fatte a milioni di italiani negli ultimi mesi. Ottimo lavoro, signori. Poteva essere un disastro. Grazie. Grazie.